Sì, già? Partiti! Aio, ognuno si prende una pista, guai! Era uno scherzo, vai! Aiuto, aiuto, aiuto! Piano, piano ciccio, piano, piano, dai! Era un gattino, e si è spaventato qui. Ti ammoglio! Tutto bene? Ti senti lì? Vuoi andare davanti, se vuoi? Eh, questa volta la sgroppata l'ho tenuta, vedi come ho stretto le gambe? Sì, perché se fossi caduta con la mia fotocamera che avrei che fa! Sto anche riprendendo! Tutto a posto? Ho visto il gattino, è stato il gatto tuo! Devi sapere che l'ho tenuta anch'io! Brava Annalisa! Si sono anche calciati! Oh, cazzo, cazzo! Scusate, ma... Vai, tranquillizzati, idiota! No, è spuntato un gatto! Ah, l'hai vista? Sì, sì! Poi non ti ho più visto perché ero in panico! Cosa cacchio stai facendo? Devi mangiare l'erba! Sì, perché si sono avvicinati troppo poi!